Si chiamano progetti integrati di filiera, si traducono con aggregazioni tra produttori di biomassa forestale. Sono gli investimenti sostenuti dal programma di sviluppo rurale Marche 2014-2020, che destina 10,8 milioni di euro per promuovere la valorizzazione economica dei boschi e delle foreste regionali. Ad illustrare e spiegare meglio l'obiettivo dei bandi è stata la vicepresidente Anna Cassini, assessore regionale all'agricoltura e alla forestazione. Un pericolo per l'ambiente è che i boschi vengano abbandonati e che si perda il prado pascolo rispetto al bosco. Inoltre il bosco deve essere tagliato ogni tot anni, proprio per il suo mantenimento, e deve essere mantenuto anche e curato il sottobosco. Questo per evitare anche fenomeni di dissesto idrogeologico a valle. La filiera è importantissima, noi nelle Marche puntiamo molto nelle filiere perché aiutano immediatamente il primo anello, che è quello dell'azienda agricola, e che in filiera ha già la possibilità di sapere che reddito avrà. E poi perché il lavoro che viene fatto, in questo caso del taglio boschivo, è comunque finalizzato alla produzione di pellet oppure alla produzione di materiale che verrà bruciato negli impianti a biomasse e quindi il sistema si chiude in maniera virtuosa. Beneficiari dei contributi sono le filiere, intese come raggruppamenti di imprenditori agricoli e forestali, loro associazioni e imprese. Le domande di finanziamento vanno presentate entro il 14 novembre 2019.